ciao a tutti ragazzi benvenuti in un nuovo video come avete visto ho registrato una canzone a caso comunque vi devo dire che domani sera ci sarà un video sul canale il canale extra che faremo un giochino un giochino degli sperimenti pazzi un giochino degli sperimenti pazzi scusate ragazzi in questi giorni non ho fatti video perché stavo sempre a montare video ogni giorno montavo video anche se dovevo studiare quella buona ragazzi faccio un po un po e finisco un po tardi infatti ora ho fatto questa comunicazione per fare la canzone ho fatto questa comunicazione e adesso dopo aver fatto questa comunicazione ragazzi dovrei fare dovrei caricare altri video ad esempio la canzone che non l'ho ancora caricata ragazzi quindi la carico ora e dopo ho da letto buonanotte voglio bene